buongiorno ragazzi da John il guerriero delle vente oggi parliamo di perché bisogna fare un'attenta politica di prezzo è importantissimo fare i prezzi secondo il proprio target di clientela prezzi troppo alti non vanno bene ma neanche troppo bassi perché non vanno bene i prezzi troppo bassi perché primo non si fa la maggiorità giusta e quindi poi il locale potrebbe avere problemi di maggiorità e problemi poi per pagare gli affitti per pagare il personale e per pagare prodotti e poi anche abbiamo poche maggiorità per noi e poco guadagno secondo perché se abbassiamo troppo i prezzi svigliamo sia il prodotto che il nostro locale perciò grande attenzione ai prezzi fate dei prezzi consoni al target della clientela che avete fate dei prezzi consoni anche all'ambiente che avete all'aredamento e fate poi dei prezzi che vi consiglio di avere una buona maggiorità mediamente bisogna avere una buona maggiorità che corrisponde tra il 30 e il 40 per cento ok perciò ragazzi attenzione i prezzi e una buona giornata da joe il guerriero delle mete condividete questo video ci vediamo poi naturalmente domani e se avete bisogno di qualcosa mandate un'email giuseppe.rdd.chiocciola.it ciao ragazzi a presto grazie a tutti